Io non so come fare a ringraziarvi perché la media dei mi piace che hanno gli episodi della serie principale è di circa 80.000 pollicioni in su Avete capito molto bene 80.000 mi piace ad ogni episodio Mi sembrano dei numeri allucinanti e l'altro giorno in live ho provato a rifare le Bedwars dopo tantissimo tempo Ho una proposta molto allettante per voi Se questo video arriva a 100.000 mi piace quindi 10 volte 10 Ritorneremo con le Bedwars qua sul canale Il che significherà impegnarsi e reimparare tutto ciò che ho dimenticato Mi raccomando ragazzi un bel pollicione in su Commentate e iscrivetevi, attivatevi alla campanellina E buona visione Bene ragazzi qua è Stepney e bentornati in questo settimo episodio della serie principale di Minecraft Sono fomentatissimo l'ultima volta abbiamo trovato una marea di cose fra diamanti, animali, di tutto e di più I vostri commenti mi fanno scassare dal ridere dicendo tipo che ho rubato le campane ai villaggeri Che i poverini devono tornarsene a casa quando c'è il raid al villaggio Ma soprattutto che le persone normali prendono animali domestici come maiali, mucche, pecore, cani Io invece no Lama e bisonti E che cos... perché? Perché? Mi chiedo cosa ci fai tu qua ancora No 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 ragazzi non posso assolutamente permettermi di morire Non esiste mai nella vita Via Steps, scappa, non ti far prendere a quel coso e se ti colpisce ancora una volta sei morto Perché hanno preso di mira il mio villaggio? Cioè io raso dal suolo il loro ma non significa niente questa cosa Per quanto una parte di me si lamenti di questi pillager dannati che non mi danno pace Sono contento che Minecraft abbia fatto degli aggiornamenti per rendere un pochino più competitivo il gameplay Diciamo che quando ho smesso era anche per il motivo che era tutto molto semplice Non c'erano delle vere e proprie difficoltà all'interno delle partite Una delle più grandi era il Wither, il Drago dell'End era comunque battibile Però sti aggeggi che spesso e volentieri vengono a tartassarti il villaggio Sono abbastanza fastidiosi Abbiamo fatto fuori il tipo, mi ha dato pure uno smeraldo Però siamo alla buccia ora, non ho più vita Meno male che casa mia comunque è al sicuro Io direi di lasciare gli altri pillager che sono nei paraggi e non so dove A casa loro Ho scoperto come si usa il tavolo della cartografia Servono delle paper per fare dei fogli che si trasformano successivamente in mappe La cosa bella è che con la mappa possiamo vedere tutto ciò che abbiamo intorno al nostro villaggio Ed esistono 4 livelli di mappa per renderla sempre più zoomata e vedere più territorio possibile Io adesso però ho bisogno di bere un bicchierino di latte Altrimenti mi rompono le scatole E il fatto è che bevendo questo latte non ne ho più Vi avevo promesso che nell'episodio di oggi saremmo andati direttamente nel nether Il che significa che recupererò un bucket di latte Dopodiché sceglieremo una zona dove costruire il nostro portale Lo faremo subito E poi successivamente ci costruirò intorno una bella struttura Quando avrò l'idea e la creatività ovviamente Avevo visto delle mucche qua giù in fondo Dovrei portarle anche a casa per averle sempre a portata di mano Poi tra l'altro ho anche un po' di uova Il che significa che presto potrei provare a fare lo spawn di polli infinito In tantissimi mi avete chiesto il seed del mondo Per vedere un po' cosa mi circonda e per darmi magari dei consigli Più avanti nella serie ve lo darò Altrimenti poi mi spoilerate Mi dite dove è il portale del land E cose che vorrei scoprire nel corso del tempo Noto con piacere che anche tutti gli alberi del deserto sono cresciuti E nei prossimi episodi fare anche il prossimo livello della casa Abbiamo deciso di strutturare una casa sul livello in modo un po' strano Quindi rimaniamo su quest'idea Spacco giusto due o tre alberi in modo tale di andare a dormire E domattina trovarmi tutti i sapling a terra per poter ripiantare tutte le piante Cos'è questo rumore? Rumori alquanto strani in quel di minecraft Mi son cagato sotto Andiamo a dormire prima che arrivi un demone del male che ancora non conosco e mi faccia morire istantaneamente Sto affrontando questa serie di minecraft come se fosse pokemon Qualsiasi creatura bislacca mi viene incontro prendo e la catturo Peccato per il bisonte che è svanito nel nulla Però secondo me prima o poi ne torneranno altri Abbiamo capito un po' cosa succederà all'interno di questo episodio Quindi recuperiamo del flint Del ferro per fare ovviamente l'accendino E dieci pezzi di ossidiana Scegliamo un attimo il punto in cui vogliamo realizzare il portale E andiamo subito a costruirlo Fatemi vedere un po' una zona che potrebbe essere inerente a ciò che voglio fare io Là in fondo dove ci sono le case dei villageri sulla montagna potrebbe essere interessante Io ho lo spawn qua dietro quindi il punto zero all'interno del nether non sarebbe male Però sarebbe un po' lontano Mentre per quanto riguarda quella montagna lassù forse spawnerei un po' troppo in alto Io vorrei una via di mezzo Che poi fermi tutti non ci stavo pensando ma ci sono i ghast nel nether Probabilmente avrò bisogno della balestra anche se in generale con otto frecce si fa ben poco Fatemi un attimo appoggiare qui la mia acqua così i cagnolini possono anche pulirsi bene bene Intanto mangiate tutto il mio cibo Oh calmi raga si stanno saltando addosso eccolo là Un altro cane da mantenere che non lo sapevo io Dove stai andando no non esiste non esiste è scappato il cagnolino Una bucket nel dubbio io la porterei vuota in modo tale da recuperare la lava Il cibo lo abbiamo in abbondanza torce ne abbiamo in abbondanza possiamo andare Questo punto qua non sembra male per la realizzazione del portale Qua in mezzo a queste due montagne potrebbe starci Un'altezza media non troppo alto non troppo basso Poi ovviamente ci facciamo una struttura tutta intorno Il cagnolino mi sta seguendo stai calmo che fai una brutta fine Ho deciso ragazzi il portale va bene qui realizziamolo subito Due blocchi sotto tre di lato uno di sopra e altri tre da quest'altro lato Dovrebbe essere ufficialmente operativo Prendiamo il nostro accendino e diamo il via alle danze ragazzi Il portale del nether è ufficialmente attivato Ci buttiamo dentro istantaneamente e speriamo di non finire all'interno dell'inferno più totale Anche se in realtà il nether è l'inferno quello è nient'altro We need to go deeper Wow E' sempre un'emozione quando arrivi nel nether per la prima volta in una serie Infatti guardate come la lava inizia a generarsi a cadere da sopra va bene Siamo in un punto abbastanza alto la prima cosa da fare è segnarsi le coordinate Con le coordinate non ci sarà modo di perdersi Proprio non abbiamo la possibilità di farlo neanche volendo Vorrei evitare di sprecare il mio piccone di diamante Tanto i blocchi del nether si distruggono abbastanza velocemente A parte il quarzo che è un minerale E che adesso iniziamo a farmare un po' Così per poi costruire una mini struttura intorno al portale che abbiamo costruito nel mondo normale Anche se come al solito converrebbe utilizzare il piccone con fortuna Che tuttora non abbiamo Ricordiamoci che la lava nel nether va più veloce Che fa un danno atroce Che non abbiamo tanta vita E che stiamo giocando in hard Invece di salire io suggerirei a me stesso di trovare un modo per scendere In modo tale da poter raggiungere qualsiasi punto io voglia Qui è alquanto pericoloso devo dire Mi avete detto in uno dei commenti di abbassare un po' il volume della musica Che è tristissimo Più che altro io vorrei aumentare la luminosità Così si dovrebbe vedere un po' meglio che il nether è parecchio scuro Vediamo se troviamo un modo semplice per raggiungere dei piani inferiori Qua è pieno di pigmen Evitiamo di colpirli Non sarebbe male trovare subito una bella fortezza Godrai tantissimo Peccato che non si possano fare le scale al contrario come su fortnite Però ve la butto lì così a sensazione non dovrei morire da caduta lanciandomi qua sotto Vero? Metà dei miei cuori ok Adesso almeno posso fare un collegamento che mi riporta nella parte superiore E abbiamo già il modo per tornare a casa da qua sotto Non ho portato molti blocchi Quindi dovrò arrangiarmi poi con quelli di netherrack che trovo a giro Ci siamo Collegamento realizzato Eccolo lì Quanto me la sono rischiata mannaggia a me Step Tienilo bene a mente Se te colpisci un pigman sei morto Ti one shotano E vabbè ma ci sono pozze di lava ovunque Non c'è un punto che si può raggiungere Proviamo da quel lato laggiù che mi sembra aperto Prima mangiamo un panino Così nel caso in cui dovessimo cadere nella lava Magari riusciamo a salvarci ma ne dubito Avrei dovuto portare un crafting table per fare le slab Per ottimizzare i materiali nel percorso Ma sti cavoli ormai non si può più tornare indietro La missione del nether è ufficialmente iniziata Sapete già come andrà a finire? Ci perderemo Moriremo E perderemo tutto il nostro inventario Sento un ghast Non capisco dove sia Forse alla mia sinistra Piccola busta di piscio Dove sei? Guarda che ti vengo incontro Eccolo lì No No sei scemo Davvero sono passato sulla lava? Che idiota Adesso morirò dalla lava e dal fuoco No forse no Mi sono bruciato leggermente il piede Non dovrebbe essere eterno Ok grazie per fortuna Non ho mai provato la balestra Vediamo come funziona Intanto rimanda agli indietro Oh cavolo Non funziona propriamente così mi sa È carica? Ah va caricata e poi spari Ok molto calmi È lontano quindi non dovrebbe essere un problema Teniamolo a debita a distanza ovviamente Un po' di soul sand la prendiamo per portarla a casa Così nel caso in cui dovessimo trovare le verruche Io vorrei fare una serie principale come si deve stavolta Quindi anche con le pozioni Prima io l'abbiamo sentita mille volte questa cosa Può darsi Non so perché Topolino dovrebbe commentare i miei video ma va bene Gast sei sparito? Ah se sta facendo il bagnetto nella lava Quando sei là sotto non posso neanche ucciderti Non ha senso Così non mi droppi niente No Non si fa così eh Non ci si comporta in questo modo con gli ospiti Va bene che sono a casa tua E dovrei comportarmi anch'io in un certo modo Però devi stare sereno eh Devi stare molto calmo E t'ammasso Te la sparo indietro e ti faccio fuori Eh? Non ridi più adesso? Il primo gast della serie l'abbiamo fatto fuori Tanto per far capire a tutti gli altri gast Che comandiamo noi anche se è casa loro Devo fare un po' come pollicino con le briciole Spargere torce dappertutto Perdessi è una passeggiata in questo mondo Come faccio a trovare un punto utile al sottoscritto? L'unico modo credo che sia quello di esplorare Quindi di andare avanti il più possibile Prima o poi ci imbatteremo in qualcosa Questa colata di lava 4x4 mi spaventa tantissimo Praticamente è una panda del male che fluttua nel cielo Una colata lavica Una colata pandica E mi avete detto che hanno inserito i panda all'interno del gioco Io non so se è vero se è un troll Però sarebbe davvero molto figo A me che piace catturare qualsiasi cosa si muova in questo gioco Cioè i panda sono leggendari Eh ma dove vado se non c'è niente per me? Distese infinite del nulla Mi piacerebbe recuperare anche un po' di questi materiali Che sono davvero carini da utilizzare in fase di costruzione e abbellimento Il problema è che si prende danno se non sbaglio con questo materiale Quindi stiamo molto attenti Vai di magma block Si fa male la pena due danni ma che fa di male Direi che uno stack è più che sufficiente Sono un piccolo stefanin Me ne vado un po' a gir Mai nessuno mi fermerà Tra la 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 Non vorrei sbagliarmi ma il nether ha una struttura completamente diversa Come me lo ricordavo eh Un tempo non era così tanto frastagliato Erano blocchi più enormi Zone gigantesche Spazi infiniti Per fortuna non mi do per vinto facilmente Ragazzi finchè non troviamo qualcosa di buono Io sto qua dentro eh Guardala quanta glowstone Troppo pericoloso stare lassù in cima senza un feather falling E la madonna se è gigante qua Io posso anche scendere ma devo stare attento a non fracassarmi le gambe In questi cunicoli uno per uno perché per morire basta un secondo eh Ho appena finito il piccone di iron Mi rimane solo quello di diamante E come vedete la durabilità scende veramente in fretta Sì ma dove caspita sto andando scusatemi eh Fino ad ora centinaia di spazi aperti Poi mi sono infilato in questo buchetto Per quale motivo? E infatti Non avrebbe avuto molto senso scavare tutta la montagna nel nether completamente a caso Sappiamo perlomeno che siamo arrivati da là Io non sono nessuno per deciderlo O per comandare Dettare ordini Però delle indicazioni per una fortezza più vicina potreste anche darmele Tanto la fortezza non è niente di più che un parco giochi della morte Dove il biglietto è mettere a repentaglio la tua vita Con slime, blades, nether skeleton Nether skeleton o wither skeleton Attenzione Inizio a vedere delle forme di vita diverse dai pigmen Uno slime Potrebbe essere un segno o una casualità Quanti di voi danno per scontato che morirò nel nether e perderò tutto quanto Alzino la mano in questo momento Ho quasi finito i blocchi di cobblestone Non ho portato neanche la legna per fare dei crafting table e ricreare altri picconi Complimenti Step Sto dando estremamente per scontato che andrà tutto bene Perché se finisco il piccone non torno più a casa C'è un altro ghast lassù in cima Ma della fortezza ancora neanche l'ombra Neanche un brick Nulla Avrei potuto dire nella fortezza neanche un ombrick Sarebbe stato divertente Strada senza sfondo We got a problem Sono rimasto bloccato Devo tornare indietro A meno che qua dietro non ci sia un'altra via d'uscita Cosa molto plausibile Senti Indiana Jones Vuoi trovare qualcosa di interessante O andiamo avanti ancora a Muzzo Prima mentre eravamo nel mondo normale Mi avete fatto dire che Minecraft ha aggiunto un po' di competitività Anche al single player Ma dov'è? Dov'è questa competitività? Beh in compenso ho dei funghi Che non posso trasformare in zuppe perché non ho preso il legno Bene Sarebbe stato davvero molto utile portare i blocchi di ossidiana per creare un altro portale Ma io so scemo Creando un altro portale la strada di ritorno verso casa l'avremmo fatta nel mondo normale Sarebbe stato tutta una passeggiata molto semplice tranquilli con la legna con gli animali Certo anche alcuni mob che ti picchiano Qua ci sono solamente i pigmen che non fanno niente Però ecco avrei preferito non rischiare Sto facendo ponti di lava nel mezzo al niente Senza una destinazione Senza un obiettivo Cioè l'obiettivo ce l'abbiamo Trovare una fortezza Ma quando? Dove? Perché? Sono fiducioso Secondo la legge dei grandi numeri Più tempo passo nel nether Più sono le probabilità di trovarne una Continuando a camminare sempre verso una direzione L'ho cambiata giusto un paio di volte Sto cercando di utilizzare minuziosamente il piccone Perché ne ho portato solo uno accidente a me E di conseguenza sono nei guai Oh let's go Ce l'abbiamo fatta Lo sapevo che bastava crederci Fortezza trovata E stepni ce l'ha fatta E adesso ci andiamo Attenti o crepiamo Prima o poi sarebbe dovuta saltare fuori Sono contento di averla trovata Iniziamo a fare subito una scala per salire in cima La farei intorno in realtà al pillar Che forse è la scelta migliore Per non rischiare di fare un fail bruttissimo Così nel caso in cui dovessimo cadere Con un po' di reazione istantanea Potrei anche rischiare di salvarmi Fortezza trovata A terrible fortress Ho sbloccato anche l'obiettivo Ma non è molto terribile Cioè ci sono giusto tre blades Che mi hanno già visto Facciamo dei lavori di sutura Perché a me non piace rischiare la mia insulsa vita in minecraft Eccoci Cosa cosa come quando Cosa Chi mi ha preso Uno di quegli aggeggi Maledetti Immaginatevi se mi avesse fatto cadere nella lava Sarebbe stato un disastro Adesso dovrebbe essere caduta Oddio mi hanno ricolpito Mi son cagato sotto Aia Ma cos'è Gast no 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 Tu sorella quella Bella Ma va a fangala Oh Mi stanno prendendo di mira Aiuto Aiuto Il gast è sopra di me Sopra di me Aiuto No non va bene Non va bene Calmoste Cerca un piccolo rifugio La fortezza sembra bella grossa eh Potremmo trovare un sacco di cose interessanti qua Magari anche delle chest con armature per i cavalli Guardate qui Enormous Porta a casa anche un bel bucket di lava È gigante raga Ne abbiamo trovate una di quelle enormi Ma abbiamo trovato un'armatura per i cavalli di iron Un diamante Non sembrerebbe esserci più tantissima roba Per non sapere leggere e scrivere mi segnerei le coordinate di questo posto Cerchiamo di capire quanto è grande e quanto possiamo sfruttarla per i nostri interessi Se no col cavolo che un giorno faremo comparire il wither Non che mi vada così tanto a genio di farlo il prima possibile Figuriamoci Qua sopra c'è della lava Sì Il pericolo più grande per noi stessi siamo proprio noi stessi Sento rumori di blades Quindi occhio non fare l'eroe della situazione Oh mio dio C'è uno scheletro e non l'avevo visto Ciao piccolo slime sei morto muori grazie subito Non posso permettermi di rischiare la vita Questi potremmo provare ad ucciderli Eh no so forti Crea delle torrette qua per coprirti dai loro colpi Non so se vi rendete conto ma potrei cadere di sotto da un momento all'altro Devo provare ad avvicinarmi e fargli almeno un po' di danno a tutti Che tu magari ci mori male Uno ucciso Magari ci mori pure tu Ne è rimasto solo uno No sono in due sono in due Torna indietro step E sta mira mira E e waka waka Step Non mi fate paura Ve lo dico proprio tranquillamente Tanto la siete anche dall'altra parte Eh però date un po' troppo fuoco alle cose Io vi prendo Ammazzate Oh mio dio sei un pazzo maniaco step Sei un malato Faccio parkour in mezzo alla lava Perché Cos'ho di sbagliato nella mia testa Uh netherworld Le verruche Direi di rinunciare a questa pala Posso riunirle No Mannaggia Io vorrei poter tornare a casa il prima possibile Quaggiù ci siamo già stati Perché ci sono le torce Prima di combinare i guai Potrei interrompere positivamente questo episodio Che ne dite S alto qua Mannaggia la pupazzarola Prima di chiudere il video io ti ammazzo Allora non hai capito Io sono un ospite Mi devi trattare bene Non mi vuoi fare questo Oh raga ma che è sta storia Ora ti predicto E ti faccio fuori Boom No che pe... L'ho preso L'ho preso di nuovo Cari amici Questo episodio di oggi Della serie di minecraft Termina qua Siamo riusciti a trovare la fortezza Adesso provvederò in qualche modo A recuperare le blaze rod Per far si che in futuro Le avremo già E ci mettiamo la coscienza a posto Spero che vi sia piaciuto Se è così è stato lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivete E attivate la campanellina Noi ci vediamo nei prossimi giorni Con un prossimo video Qua da sempre è tutto Buone Che bello aver trovato la fortezza Così nel prossimo episodio Prendiamo le blaze rod Ammazziamo gli scheletri La cosa più importante ragazzi È rimettere le chiappe sulla terraferma Ammazziamo gli scheletri